Noi tutto questo l'abbiamo iniziato a capire dalla stampa di ieri sera e dall'articolo dei giornali stamattina. Noi chiediamo a questo punto il chiarimento in merito di questi articoli perché bruciare una manifestazione che noi scendiamo in modo pacifico, perché il nostro intento era far capire al sindaco e all'amministrazione che noi abbiamo collaborato con loro. Non è vero che noi abbiamo detto o qua o niente, non è mai stato il nostro atteggiamento in voto e niente a nessuno. Abbiamo cercato dialogo, cose che non abbiamo avuto. Ora, il discorso della ditta che è stata minacciata così via, se è vero quando dichiarato dalla ditta a noi ci dispiace, perché non era il nostro intento avere queste cose, ma che la ditta ci deve dire eventualmente, perché vogliamo essere ripetati come categoria, chi l'ha minacciato e che le denunzie si fanno con nome e cognome, non popolizzando una categoria di avventi ore prima di una manifestazione per chi?